bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video episodio numero 85 della nostra serie di minecraft signori allora prima di partire col video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie al canale vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi signori io ce lo sto mettendo tutta voi basta semplicemente cliccare sul pulsantino segui o mi piace ora non mi ricordo o il mi piace mi raccomando lasciatelo anche e anche un commentino tecnico tattico come direbbero i youtuber quelli bravi e che fa sempre piacere signori prima di partire col video voglio mostrarvi due cose molto carine che ci sono all'interno del nostro mondo uno il gatto che si è incastrato qua dietro e penso rimarrà lì per tutta la vita perché non so se mai riuscirà a uscire e noi non lo faremo mai uscire la seconda cosa carina è la lotta infinita che ci sarà fra il nostro snow golem e il questo pigman praticamente non so quanto possa durare questa cosa ma secondo me sarà abbastanza infinita e da circa lo scorso dal fine dello scorso episodio quando pensavamo qua ai funghi che questi stanno a fa così e si passa nel tempo in tutto questo sono riuscito a far crescere il terzo fungo ho allargato la base che c'era sopra ed è ed è spuntato quindi abbiamo i nostri bellissimi tre funghi che carino perché hanno tre altezze diverse ai ai tre altezze diverse e questa cosa mi piace tanto signori allora cosa facciamo nel video di oggi come avete capito dal titolo andiamo alla ricerca di oro perché diciamo che per ottenere l'ender per dovremo o troviamo degli enderman e per fare gli enderman dobbiamo andare comunque in giro per il mondo perché purtroppo qua vicino casa nostra non esponono e soprattutto vicino nel nether non ne abbiamo trovato neanche uno quindi diciamo un attimino che dobbiamo darci una mossa in questo senso quindi andiamo al giro per per il mondo per caverne e per tutto quanto sperando di riuscire a trovare degli enderman e soprattutto recuperare del loro signori perché è quello che fondamentalmente ci serve per poter fare gli scambi con i piglin e poter ottenere l'ender perché dobbiamo andare a uccidere un certo drago signori allora cosa dobbiamo portarci dietro allora abbiamo del ferro abbiamo il carbone questo ce l'abbiamo abbiamo della carne che se ne ricordo male qua ce n'è un altro bel po portiamocene 64 belle tonde tonde queste altre le mettiamo qui e direi che va bene qui sopra cosa stavo cucendo il ferro dai facciamo una sì 36 di ferro me li porto dietro gli altri per ora li lasciamo qui dobbiamo fare anche l'envil che abbiamo un attimino distrutto nello scorso video il lettuccio ce lo portiamo che ci può servire ci portiamo anche il piccone con fortuna che non è per niente male e direi di no non lo possiamo andare a riparare perché non possiamo non abbiamo l'envil quindi non lo possiamo riparare e stop signori abbiamo abbiamo tutto il cibo ce l'abbiamo le torce ce l'abbiamo gli strumenti da lavoro ce l'abbiamo non abbiamo mai messo il mending in questi stivaletti quanto quanto mi costa il mending negli stivaletti allora facciamo l'envil signori che bello quando e ti parte il programma per una cosa e poi lo cambi in lo cambi proprio in maniera drastica è incredibile allora 1 2 e 3 blocchi perfetto dopodiché se non sbaglio si fa così 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 e così perfetto abbiamo la nostra nuova envil signori perfetto questo questi di ferro però li lasciamo qui che non ci servono andiamo a posizionare l'envil vediamo quanto ci costa mettere il mending tra l'altro sta calando la notte quindi diciamo diciamo che tutto perfettamente organizzato quanto ci costa mettere il mending negli stivaletti mi bastano 21 livelli e chi lo sa 17 perfetto signori abbiamo anche messo il mending negli stivaletti quindi questi si ripareranno efficienza e vabbè queste comunque volendo possiamo rifarci di ferro se dovremmo avere la necessità di di un qualcosa del genere e va bene va bene qua sta calando il sole le mie tartarughe sono nate sono nate le tartarughe no sono ancora là le uova che stanno che ci stanno mettendo una vita praticamente a nascere ora noi ce ne andremo tutt'altra parte quindi non partirà nemmeno il qua il mondo il tempo si fermerà quindi perfetto quindi signori dormiamo e poi partiamo per l'avventura non so in che direzione ci conviene andare ci conviene andare però ci conviene andare anche una barchetta ecco la barchetta ci potrebbe tornare un poco utile allora signori che ricordi da quel lato da quel lato di là ci siamo andati quindi ma anche in quella direzione là siamo sbagliati anche di là proviamo a andare aspettate dobbiamo piantare gli alberi non che cambi niente perché abbiamo detto che il tempo si ferma però quantomeno ci vediamo questo piccolo fardello la stanno continuando a lottare non so se sentite il rumore di sottofondo perfetto ma noi ce ne infischiamo altamente partiamo di qua e andiamo in quella direzione là signori riesca o non uccidermi ok sono riuscito a non uccidermi andiamo in questa direzione di qua l'obiettivo è trovare una caverna bella cicciosa da esplorare signori abbiamo questo obiettivo non abbiamo secchielli e questo è un male potremmo portarci dei secchielli per vedere se troviamo dei dei nuovi pesci tropicali cosa che non dobbiamo aggiungere al nostro acquario il nostro acquario deve essere sempre più ciccioso qui questi questi alberi in teoria indicano che qua sotto dovrebbe esserci una landscape sapete quelle con tutte le cose particolari con gli axolot forse ma noi non ce ne sbatto una sega signori noi no 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 e zio vieni qua vieni qua due ce ne signori no 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 mi servono mi servono come il pane no 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 venite qua che vi ammazzo tutti vi amma ti amma ti ammazzo male vieni qua ti ammazzo e dammi l'ender per sì signori questo video inizia benissimo due ender per già recuperate qua ce ne stava un altro zio 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 guardami guardami come ti guardo male guardami come ti guardo male mannaggia a te mannaggia a te dai dai zitto e muori porca miseria e porca di una miseria infame dai cos'altra per render per recuperata signori ma inizia benissimo questo video soluzioni inaspettate tre ender per già recuperate ce ne mancano solo tre ma che di che cazzarola stiamo dicendo io stavo andando nelle grotte per cercare gli enderman e per cercare loro da scambiare con i piglin e mo mi sono spawnati l'enderman qua così di botto ma bellissimo ma rimaniamo in questa zona di qua ma com'è possibile questa cosa due poi peccato se quello mi dava altre due ender per eravamo a cavallo signori se l'altro se l'altro me ne droppava altre due eravamo a cavallo porca miseria mannaggia ce n'è qualche altro che vuole vuole partecipare a questo video dai vi faccio partecipare al video spettacolo ok ce ne mancano tre signori ce ne mancano tre ce ne mancano tre per andare a ammazzare il drago in che video lo faremo non lo so appunto primo dipende da effettivamente quando troveremo le altre trend perché la vedo comunque sempre molto complicata e punto secondo quello quell'ombra mi sembrava un altro un altro enderman stavo dicendo aspetta troppa grazia sant'antonio come come si dice in gergo come si dice in gergo troppa grazia per noi qua c'è qualche altra cosa magari mi messi buttati qua dentro no non c'è un cacchio di nulla va bene va bene va bene torniamo sulla nostra retta via signori c'è stato questo momento di euforia bellissima peccato se nel video di qualche giorno fa quando abbiamo beccato quel l'unico enderman nel nether quando eravamo andati a cercare gli enderman nel nether ci avesse droppato anche lui dell'ender per saremmo stati a cavallo però mai lamentarsi signori mai lamentarsi mai lamentarsi sempre sempre positivi sempre positivi intanto tre ce le abbiamo e non era detto che dovevamo trovarle ora questa iniziano una foresta enorme qui c'è un mini buco ma vedo anche una torcia quindi qualcosa mi dice che questo già lo abbiamo no no proprio non non ci sta nulla quando è che ci sta un mini 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 no ma di qua questo sì questo avevamo già analizzato uno dei primi dei primi episodi signori sì 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 me lo ricordo me lo ricordo sì 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 no andiamo oltre andiamo oltre qui rischiamo di tornare in zone già viste e non vogliamo questo zone già viste no non è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è cercare nuovi orizzonti nuovi orizzonti per farlo andiamo in quella direzione di là magari non affogando cortesemente ok dobbiamo portare anche i maiali nella nostra isola volante signori sono gli unici animali che ci mancano in teoria in pratica ce ne manca una caterva però in teoria sono gli unici animaletti che ci mancano non è che per caso sotto qualche albero c'è qualche enderman no no niente da fare se ne abbiamo avuto questa botta dei dati che improvvisa e ben accetta ben accetta senza ombra di dubbio però adesso il nulla ok ok va bene li vedo l'insenatura li vedo l'insenatura la cosa mi piace si è anche bloccato il computer no ok è ripartito anche per caso qui c'è un end no 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 non ho nemmeno il latte non lo posso manca ammazzare a questo senti zio ti voglio tanto bene ti si sparami sparami io ti mando io ti mando sotto terra va bene sì 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 fai fai quello che vuoi ma io ti ti sì sì mi dispiace per te ma ma non vedrai più la luce del sole e mai anche i tuoi amici ok va bene l'abbiamo interrato signori una morte terribile ma l'abbiamo interrato abbiamo dovuto farlo abbiamo dovuto farlo perché ci stava stressando pesantemente e anche perché se l'ammazzavamo era erano solo guai per noi non era un qualcosa di buono è vero non abbiamo ottenuto lo standardo su questo non lo metto in dubbio ma non ce ne faremo una ragione meglio uno standardo in meno che tanti villageri morti per causa di del bedomene lì della 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 malattia di che ti passano questi del dell'incantesimo che ti passano questi non è una malattia è un incantesimo scemo ok allora ok ok questa è interessante signori questo forse forse abbiamo trovato qualcosa di interessante vedo tutto buio ottimo ciò significa che non l'abbiamo ma è acqua quella lì ok e però se è tutta acqua io che cazzo allora vado a esplorare un tubo di niente vado a esplorare la c'è uno scherzo non so se voi lo vedete ma se ne è andato non sta tornando lo facciamo fuori velocemente vediamo chi è più legolas tutti e due io allora e signori questa è una bella grotta ma è tutta acqua sì è tutta acqua quindi non abbiamo che farci grotta abortita è tutto troppo acqua che c'è che c'è fama con tutta acqua e devo cerca di andare in profondità non devo cercare di andare in mezzo all'acqua anche perché rischiamo di notare tutto il tempo non trovare assolutamente nulla anche perché gli enderman nell'acqua non ci stanno neanche morti quindi non perdiamo tempo continuiamo l'esplorazione vediamo se riusciamo a trovare qualcosa io però devo fare solamente una piccola variazione perché se non ricordo noi dovremmo avere ancora i figli i junk distanza di simulazione chunk 8 mettiamo 10 noi giochiamo con 4 chunk di profondità signori non ve lo vorrei dire non ve lo vorrei dire quindi siamo proprio andiamo proprio all'avventura di tutto proprio esplorando piano piano il bello sarà infatti uccidere l'ender dragon con 4 chunk caricati cioè non lo vediamo nemmeno se ci passa davanti però va bene non ci preoccupiamo non ci preoccupiamo nostro obiettivo è trovare una caverna va bene signori allora facciamo così e faccio un breve taglio faccio un breve taglio a meno che qui non mi spunto subito una cavernona così all'improvviso no è solo un blocco di pietra posizionato lì quindi diciamo che faccio un breve taglio signori e appena trovo qualcosa di interessante no che non è questa cosa di qui e ci rivediamo ci ricolleghiamo su questi stessi canali così non mi annoio con la ricerca del inutile del della grotta questa è sempre tutta acqua stiamo trovando grotte con acqua mi serve grotte con roccia non grotte con acqua porca miseria mi servono roccia roccia profondi roccia non 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 acqua cosa fare io con acqua va bene ci vediamo dopo ci vediamo dopo ok signori forse qualcosina l'abbiamo trovata tra l'altro sta calando anche la notte quindi direi proprio di infilarci in grotta anche se non sarà la migliore però intanto noi qualcosa l'abbiamo trovata l'obiettivo abbiamo detto qual è l'obiettivo era andare in grotto ok qua scende qua scende va bene va bene quindi ci siamo ci siamo mi stavo deludendo praticamente allora facciamo una cosa recuperiamo un attimino il carbone dici ma ce l'ha il carbone sì non lo stai prendendo nemmeno con fortuna sì giusta osservazione però va bene ci teniamo questo questo carboncino di qua mettiamo un po po di torce qui ho visto anche del ferro che il ferro ce l'andiamo a recuperare col piccone fortuna ovviamente trasliamo tutto di uno che la giusta organizzazione questa non ci serve non cacchio e facciamoci un attimino di spazio così perfetto e recuperiamo il nostro bellissimo ferro col piccone fortuna che dovrebbe darcene un bel po in più nuove ricette perché nuove ricette non ho cambiato la versione di minecraft perché ti sei rincoglionito così non si sa allora di sicuro allora in questo buchettino di qua di sicuro possiamo buttare queste ossa che non ci servono questo che non ci serve questo non ci serve questo che già è troppo perché l'ho preso uno scemo signori l'ho preso col silk touch ecco perché mi ha dato nuove ricette perché questo piccone c'è il silk touch non c'è fortuna perché mi sono portato il piccone con silk touch non lo so nei commenti sicuramente magari qualcuno che segue la serie me lo starà anche chiedendo e io però perché la risposta mia è perché sono scemo va bene la torcina qua noi l'obiettivo abbiamo l'obiettivo dell'oro signori dobbiamo trovare oro non mi dico che finisci qua perché mi incacchio tantissimo di quasi risale c'è del ferro ma io volevo loro non voglio il ferro mannaggia a te voglio loro che detto così e sembra sembra che voglio qualcuno no voglio loro il minerale porca miseria non voglio il ferro non mi dare ferro non mi serve a nulla il ferro ma facciamo una è finita non c'è non c'è un tubo di nulla di là non penso si si vada da qualche parte proviamo ma secondo me non si va da nessuna parte di qua e infatti c'è solo del carbone inutile va bene va bene signori niente e allora usciamo da questa caverna che c'ha illuso e dormiamo e dormiamo sì perché tra l'altro della notte quindi dormiamo un attimino e ci rivediamo quando trovo una strada interessante che vi devo dire purtroppo l'esplorazione è così signori quando si fa l'esplorazione bisogna anche prepararsi a dei fail a delle situazioni un poco inutili ora onde evitare dove il mio lettuccio che mi spuoni non che c'è qualche enderman no enderman no ma creeper sì creeperino mio non hai che cosa fare io ti stimo ti lascerei in vita ma anche no creeperino mio hai rotto i coglioni allora enderman enderman signori enderman enderman bellissimo enderman bellissimo vieni qua zio vieni qua vieni 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 che ti voglio tanto bene vieni qua dove sei vieni sì col tuo bel blocchetto vieni qua vieni qua taglie così avvicina un altro poco taglie così stammi vicino stammi vicino no 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 dai che ti voglio bene dai che ti voglio ti vengo anch'io incontro ti voglio anch'io incontro taglie così taglie così e muori bastardo no 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 dimmi che me l'ha droppata quattro sì mi ha droppato l'enderman mi ha droppato l'enderman come godo signori come godo godo tantissimo siamo a quattro enderper siamo a quattro enderper la ricerca dell'enderman continua oh signori io non dormo io non dormo dai che mi sponano dai che mi sponano qualche altro enderman eccolo eccolo là un altro eccolo là un altro bellissimo vieni qua vieni qua zio ti vengo io incontro ti vengo io incontro se me ne dai due volo se me ne dai due volo signori se me ne dai due non c'è bisogno che vai cercare niente ti venga a cercare io vieni qua e muori vieni qua e muori dove sei dove sei mastardo due enderper signori abbiamo l'enderper abbiamo l'enderper per andare ad uccidere il drago signori abbiamo l'enderper per andare a uccidere il drago ce ne sono altri no mamma mia che fortuna signori che pensavo fosse molto più lungo e invece siamo riusciti quello è un altro enderman no no quella è una stella che sta volando però dobbiamo un attimino mangiare perché sennò siamo messi male mangiamo un attimino ok signori abbiamo tutte le enderper per andare ad uccidere il drago non ci sono più enderman signori non ce n'è più uno in giro ce ne servivano sei e se ne abbiamo trovate ci sono ragni ci sono c'è c'è il delirio c'è ci sono mostri come se non ce lo sono domani ci sono mostri dovunque che io direi anche di cercare di evitare perché semmo questi ci ci cerchiano tutti ci ammazzano signori quindi la soluzione migliore sarebbe forse quella di mettere velocemente il nostro lettuccio qui così senza che nessuno ci vede dormire fare spuntare il sole e farli bruciare tutti quanti con le fiamme del sole praticamente bruciate tutti bruciate tutti perfetto signori incredibile incredibile ma vero incredibile ma vero signori siamo circondati da qualcuno no dammi le mie enderper mettile qua signori detto questo io vi ringrazio da questo video abbiamo le nostre sei enderper che ci mancavano per attivare il portale del nether detto questo io vi ringrazio questo video vi ringrazio per l'ac per i commenti per i suoi genti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao ciao